La variante sulla satale 80, tra la rotonda nei pressi della scuola edile di San Vittorino, che è stata a centro vaccini nell'emergenza, il Cermone, in località Pizzoli, si farà. Si tratta della contestata variante al centro di aspre polemiche da parte delle associazioni locali, soprattutto Italia Nostra, perché a ridosso dell'area archeologica di Amiternum. Il Consiglio di Stato, con una sentenza che forse in molti non si aspettavano, ha dato invece ragione all'ANAS, accettando il ricorso contro il parere negativo della soprintendenza, datato 2019. Una sentenza inaspettata, perché il TAR in primo grado aveva ritenuto il ricorso presentato dall'ANAS addirittura inammissibile. Dopo il sisma del 2009, quella zona ha visto uno sviluppo e una viabilità diversa, e fu costruita la strada che dal Cermone va alla scuola della Guardia di Finanza. Tra i progetti c'era appunto quello della variante, che avrebbe dovuto eliminare il tratto di Statale 80 prima del Cermone, saltando quindi il Cermone collegandosi con l'incrocio della superstrada per Amatrice. Una storia molto controversa questa, e la sicurezza di quella strada spesso è tornata di attualità ultimamente, a causa di diversi incidenti mortali che ci sono stati, e così si è tornati a riparlare della contestata variante sino a questa sentenza. La soprintendenza in merito aveva espresso un primo parere favorevole al progetto nel 2012, poi nel 2019 disse no invece, dopo che molte associazioni si ribellarono all'opera giudicata troppo impattante per la presenza della vicina area archeologica di Amiternum. Per i giudici la sovrintendenza nel corso del nuovo procedimento doveva tener conto delle modifiche fattuali e giuridiche intervenute e poteva pervenire a nuova valutazione, ma nel caso in oggetto di questa causa si tratta della stessa area e dello stesso progetto e non sono intervenuti qui nuovi strumenti di tutela. Per il Consiglio di Stato che si è espresso, insomma, mancano pure le reali ed effettive motivazioni del presunto contrasto tra l'opera in esame e le ragioni di tutela dell'aria. Insomma, la variante alla fine si farà.